Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Io sono Anna e oggi devo cliccare una persona Perché era attrata prima che iniziassi Infatti l'anno fatta entrare E' uscito? Sì sì è uscito, l'ho cliccato E perché è ancora pieno? Ma allora mi vogliono... No no non è pieno adesso Prova a entrare Mi schiaccia Vabbè scusate per questo Comunque... Grazie Buongiorno Comunque benvenuti in questo video Io sono Anna e la luce E lollo è lollo E lollo è lollo E oggi siamo su... E qua aiuto spavento Facciamo tutto così Stavo perdendo una pacca sullo spavento E oggi siamo su di nuovo Sul nostro bellissimo server multiplayer Per fare il nostro bellissimo multiplayer Intanto saluto questa persona che è entrata Che si chiama Rusne Bel nome Ok C'è la di l'initera sicuramente C'è la di l'Europa sicuramente però Ok No perché mi dava consiglio Comunque... Cosa andiamo a fare oggi? Cosa dobbiamo fare? Il carbone Hai fatto il carbone Questa volta? Sì sì l'ho fatto Ah dovevo andare Dovevo andare a fare la piantagione Il carbone guarda Il carbone è qua dentro Se vuoi cucinare qualcosa È dentro alla fornace Ok no aspetta No aspetta L'uso per cucinare altro carbone Io vado a... Ah devo fare boomin Giusto boomin L'uso per cucinare altro carbone Tanto boomin Tanto boomin Magari le tengo sette osse Magari trovo un cagnolino Lo voglio adottare Io cucino altro carbone con il carbone Altro carbone con il carbone Ah bene Ok dai un po' Facciamo crescere qua Caccia di maiali Ah ma di... Ma sai che serve dell'acqua vero? Sì ma io lo faccio con il... Qua lasciatemi Io lo faccio con il boomin No ma comunque Anna serve l'acqua Sì lo so adesso ancora Allora aspetta Dammi della terra per favore Aspetta Della terra Hai della terra? Della terra Della terra Della terra Della terra Della terra Guarda qua quanta terra Guarda là quanta terra c'è C'è Oh Ma potrei farlo tipo Qui Qui tipo Non lo so No là Va bene lo faccio là No ho sbagliato No ma guarda che l'ho già preso il cibo Guarda allora Anna guarda Qua ci metti un secchio d'acqua Eh il secchio d'acqua Non c'è ma neanche il ferro Aspetta Magia 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 E come ci comincia a fare una piantagione Tipo Non so Uno Due Tre Tipo tre per tre Io sono la contadina Contadina Anna Contadina No no capito Capito Allora datemi i miei semi Ok due semi C se hai scoperto di semi solo Ok vabbè Allora Tieni Anna Ma Anna cos'hai capito Qui Ho fatto to Patricia Come hai fatto il buco Dove montare l'acqua Ok aspetta Intorno a quello Cosa fai scavi Ti tolgo Torgo questo Anna si toglie da solo Si toglie da solo Ok Perca non c'è l'acqua Mamma mia Però Era diventato tipo colore come Ok devo farlo qua intorno Sì, però servirebbe l'acqua Dopo adesso torna tutto normale, vedi? Servirebbe l'acqua Sì, però se l'ho fatto qua, guarda, è tipo marrone scuro No, perché l'ho fatto sempre così, ma dopo un po' Torna normale, quindi basta Dai, ma ti prego Va bene, va bene Aspetta, metto intanto questi semi Dici stavo Minecraft Metto questi semi intanto Ancora non mettere l'acqua, ancora non usare le bombe Ok, intanto l'ho usato una volta, posso fare un pane E basta Ok, intanto potete andare a cercare del ferro Sì, allora Hai un piccone di ferro, di ferro, di pietro Ce l'hai te uno, no? Cosa l'hai te uno? Fai un piccone, ok Ok, ma ci sono 6 semi in più Vado a prendere altri semi intanto Comunque Ancora non uccidere né i maiali, cioè né i polli né I maiali possono uccidere lì? Sì Ok, i maiali sono inutili Perché i maiali danno solo tanto carne Invece Ancora, se un giorno troveremo Una mucca fungo, quella non la dovrai mai uccidere Perché le mucca fungo danno La carne e i funghi E i funghi Sì, esatto E i funghi Quindi sono utilissimi Ti manca un seme Ti hanno un sacco di cibo per te da volte Oh, ciao Lollo, ti vedo là che sei a fare niente Buongiorno Però faccio una cavernita qua Ma io voglio stare a scavare Ah, ti faccio un piccone di pietro Ah, ok, ok Ciao polletto Lo massimo non so Voilà Ho fatto la mia piccola piantagione Oh, al massimo bella ricerca di una caverna Ma dove siamo? Siamo a 4 minuti C'è 4 minuti, lo sai? Ma tanto posso fare i lunghi video Cioè, lo so, però dai 4 minuti per spiegarti come ti fa una cosa Tevo fare anche da sola Lollo, grassi C'ho un piccone Gli potrei anche inscala da sola, grassi Ma faccio da sola Ah no, scusa Ci dividiamo i compiti Ok, intanto io cosa faccio? Faccio una piantagione di mucche Centone mucche Fatto Cos'era la mia risata? Questa risata era malefica Ti vado a craftare i piccoli in pietà Ahia, perché? Dici, sto rimando No, no, no Non era che ha vaginogra piccolo? Non ce ne ho più lupo? Ah, piccoli Piccolino Grandino Ma passa il tempo? Oh, aiuto, sono caduto Sono caduto Ah, aiuto, mi ha rapito Mi ha rapito Ma laggiù in fondo Esatto, cosa c'è? Tipo, montagne sperdute Montagne sperdute Comunque, quanti diamanti abbiamo? Noi tre? Tre, sì Potremmo fare un piccone Esatto, è vero Ma il piccone è subito così Ma uno solo Certo, ma guarda che piccone Me lo faccio io Non fare una spada di diamante Non fai questo errore Perché il piccone di diamante è molto più utile Perché dopo possiamo Ok Magari mi fai una palla in pietra? Oh, scusa, non volevo perché non riuscivo ad uscire dopo Ho premuto l'alizzo Allora Piccone di diamante è fatto È fatto un piccone di diamante Sì, sì Ok, perfetto E ora mi fai una Mi fai una spada Ah, sì, no, te lo faccio comunque il piccone di pietra Perché Il piccone, sì, almeno la uso così Meglio non sprecarlo Aspetta, metterlo in cassa, dai Meglio non sprecarlo Ma magari trovi diamanti È, un piccone di ferro però si trova i diamanti Posso anche fare Magari trovi diamanti Mentre c'ho il piccone di pietra Non si possono prendere Eh, magari c'ho il piccone di diamante Ah, no, meglio di no Intanto mi lascio un po' di roba dentro Ma magari se muoio Non perdo tutto Tu intanto puoi fare il lavoro È un altro potenziato? Ah, no, mi sembrava potenziato Comunque Ha fatto qua Comunque Aspetate 26 di carbone Fammi una spada di Anche una spada di pietra, per favore Aspetta Quello almeno per uccidere i mostri Adesso voglio fare una Oh no, finito l'enio Mi prendo un po' di c... Aiuto, un po' di buio Finito l'enio Vado a prendere del legno È tutto buio Posso fare delle torce, magari? Vado, andiamo a letto Magari, andiamo a letto Eh, ho finito il legno Non ti ho detto Io sono già a letto Buonanotte Io vedo tutto buio C'è andato a letto? Sì Ok, eccoci qua È giorno ora Ora vado a prendere il legno E la spada di... Che cavolo ci fanno di... Eh, scusate Mi servirà il legno per fare la spada Che ci fanno dei fili per aria? Non lo so Mi sento dormire In un'angola Intanto cosa potrei fare? Vado a prendere un po' di pietra Che non so Tanto c'è un piccone Aspetta, ammò la spada Il piccone di pietra? Sì, sì Sì, se lo voglio C'è lo che magari... Ecco, cosa Qua sotto Magari così almeno... Tanto vado a prendere un po' di pietra Tanto il piccone di... Di... Dove ti... Non ti vedo ma vabbè Dai, io vedo il nome! Ah, sì, sì Lo vedo adesso Ero lontano Non ti vedevo Vedevo tipo... Vieni qui C'è una caverna Però ancora... Ancora... Vieni qua Dopo ti do un piccone Ah, no, aspetta... Ah! Sono caduta Ah, eccoti Sei qua Sì, guarda qui Mi vedi il nome, sì Ma sei finita dentro la rotta? Sì, sono finita dentro la rotta Wow Ti vedi da tu Non è che ti vedi da dentro la prigione No, tu vedi da... Da... Del buco Un mini buco a caso Ok, però tu sei proprio... Finito il piccone Oh, guarda, ho dato proprio tre Tre pietra ho fatto Aspetta... Oh no, abbiamo la crafting table E andiamo a casa? Ok, aspetta Allora tu... Però tu rimani qua Ok Guarda, ti do della pietra, il tieni Aspetta Dove che vai? Devo tenere... Il legno, pazza Devo tenere tre pezzi di pietra, tuvi Mi ha aprito il legno Ma io anche mi parlo a prendere un po' di legno No, tu restai... No, ho sbagliato Ah, no, tu restai in punto Sì, sì Ho messo... Cosa hai fatto? Ho messo un pezzo di pietra Adesso non posso togliere perché non c'è più coni Aspetta, ho messo... Ecco, guarda, non l'ho messo neanche facile, bello, così Ok Ma che lo posso mettere proprio... Hanno due alberi di legno Ok, dipende da parte Aspettiamo... La 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 la... La la la... Fai pausa Va bene Aspettiamo Lollo Aspettiamo... Sì, sì... Ce l'avrei io, tipo... Magari quando torni dietro Tanto la a casa ci sono del cibo Ci sono del cibo Dovremmo fare delle farm Sì... Visto che dopo avremo la farm pure di... Di... Di grano Questo porterebbe ad avere anche molti semi Uguali semi Uguali galline Galline... Uguali pollino Uguali cibo Uguali piume... Quanto ha blocchi di legno Ma ci sono altri fiorellini rosa Ma... 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 Mi sembrava... Lo so... Mi sembrava che quel cavallo l'ha seduto Ma... Ma... Ti vedo... Camminare la... Ciao... Ah... Si è caduto? Taro lo cadi sempre di buchi... Cos'è? Non lo so... Io adesso lo vengo scettando Dai loro i miei tre anni? Fane! Dai vieni! Ti do del cibo Ti do un pollo cotto Taro Taro, tu allora quanta fame hai? Zero adesso Perché ho mandato prima Io tre cuscette di fame Taro! Il pollo ti do... Vieni qua, sono dietro di te Girati dietro Buongiorno No Pollo, prendilo Perché? Prendi pollo Bug, non lo so Oh... Grazie Ma... Dove l'hai preso questo pollo? Ce l'avevo in inventario Ma l'hai preso prima? Si, l'ho preso da casa Ah ok, l'ho preso da un pollo No, no, l'ho preso da casa Grazie Ora vado a scavare, ciao Non si uccidi il pollo Me ne vado Se non si uccidi un pollo Anna Se non si uccidi per sbagliare un pollo No, al massimo prendiamo un pollo Aspettiamo che faccia un uovo E Lollo, sai che le anche delle... Oh guarda, due carline Lollo, c'è per caso del... del carbone da prestarmi, no? Non c'è una carallina Dov'è? Cosa vuoi? Del carbone per... non so... Per i creeper Così diciamo Creeper, ecco cosa ti fate soffrire tutti i giorni quando esplodete Così Ok, così imparate No, notificam Notificam Di cosa? Notificam Whatsapp Così notificam 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 Un campo di fiori Allora Che non c'è neanche un po' di carbone Aiuto Che cavolo ho aperto? Io Non lo vado a sbagliare contro un gatto Se non faccio rumore Tipo Ah, come mi hanno detto Eh, ma ti sei rete il carbone in l'inventario? Sii Ah ecco Quanto cibo abbiamo? Tutto io Abbiamo pochissimo cibo Ma cosa ti fai qui te? Ma tu hai... No, io... No, io sono andata a casa Comunque abbiamo poco cibo Lo diamo proprio a uccidere qualche animale Se no moriamo di farm Dobbiamo fare una farm Ah, posso farmi un pane, giusto? Vabbè, se non mi va Lollo dove sei? Sta fermo Vivremo con pane e acqua Sì Dai, forse Ma io ho della carne di maia Mi dai de... Oh, me lo dai questo, questo carbone Aspetta, della carne di... Aspetta, cucino... Cucino... Una carnetta di... Di maia Ah, ma guarda, guarda Già sto morendo, uccidimi grazie eh Vabbè, ci sto cosi da... Fai meglio qui, no? Aia Come hai fatto proprio? Ti vedevo che faccia di così Vabbè, comunque dai Dammi questo carbone Che voglio fare lì Voglio... Dai, allora basta Tu per morire Ti uccido un giro Aiaaa Così impari Toh, prendi la tua roba È lì, non ti è toccato niente Dammi il carbone ti ho detto Non lo dai questo carbone È l'alte, Nettì Dammi questo carbone Ah, devo fare le torce Le torce Ma non me le fai male Non so, mi uccidi Ah, là ci sono delle tue ceste Dietro di te È dietro E poi se vedi mi viene Lasciare la roba importante Qua Ho fatto 40 torce, ti va bene? Sì Ce li dividiamo dai E non possiamo di piacere Mettile nella ceste Dividele in 20 Oh no, aspetta Ho 64... Ho uno stack e 40 torce Dammi uno stack a me Che io sono molto Mi sono rimasti 0 di carbone Ah, bravo Anche tu però Mettiamo nelle ceste Aspetta che metto allora 20 Posso aprire la ceste? 32, aspetta No Beh Aspetta che Aspetta che diventa 32 Qua No, nooo Oh Ciao Manu Che bella Manu Molto, molto reale Ehm Così mi sembra No, aspetta, aspetta No, aspetta No, aspetta Oppure fai così col dito Ma può essere anche più la cesta Metti tu la usi Sì Perché Quei hai fatto Oh Farsi, la il fai? Eh ma... prendi la caspita Prendi tutte le torce di torce di torce Ma non riesco ad aprirla 52 torce Ti va bene? Aia Sta fermo Metto qualche torcia qua Guarda che l'ora non mangia tutto io Torni anche un po' di cipo Anna, grazie alla tua morte adesso a me non ho più fame Aspetta, metto un po' di torti in casa, magari E quello che sto facendo anch'io, la metti anche te un pochino L'ho messa qua, una Una, l'ho messa 47 e tu Dai, ma sta per me nel notte, spettiamo la notte e andiamo a dormire Ecco giù, è a dormire, buon notte Non do, ti uccido perché dormi No, Lollo Ti uccide perché dormi Dai, mi hai detto Tu che fai? Non c'è shift Aspetta, oh, non mi fa svegliato, ho fatto un incubo Ho fatto un incubo, adesso dormo Aspetta, guarda, aspetta Aspetta, allora, guardiamo se hai visto Aspetta, volevo provare a vedere una cosa Però, Lollo, che entrano i mob, dai, poi, in letto Sì